un minuto per un minuto ma sapete che c'è chiudi chiudi basta incredibile non puoi fare un minuto di ritardo uno 30 secondi nemmeno quanto amore tempo sfuggit quanto amore quanto amore che capiamo amore e odio ma chi lo sa loro sono qui per vedere il nostro io selvaggio questa è la verità il nostro io selvaggio? si la conosci? anzi c'era Richard Benson è una storica puntata in cui poi lui fa la trasformazione nel Cristo Canaro che dice inizia lo spezzone su YouTube inizia che lui dice ma tanto la gente mi segue lo stesso che mi frega a me di star a perdere tempo far quello far quello perché loro vogliono sapere del mio io selvaggio capito? va bene e quindi dice alla fine dice non mi importa quello che io faccio loro sono qua per vedermi esploda per vedermi fare le peggio cose ok non sa anche perché è un personaggio Richard Benson cioè so che è diventato un cult più per i meme che non per la sua conoscenza musicale perché io so insomma che che è stato insomma un personaggio musicale molto interessante però io non ho mai cioè qualche clip così random tra quelle più famose del polo un pollo però non conosco diciamo così la mitologia meglio no ma dico meglio per te perché se ci cadi dentro è la fine io ormai e quindi dovremmo fare una serata su Richard Benson ma se vuoi io sono disponibile a parlare dei gobelini dei koboldi degli elfi degli oni per me si può fare lo sai porte aperte così diciamo che mi addentri nel culto di Richard Benson e capiamo insomma bene perché lui io ci ricordo sempre il meme le poesie tutte le sue frasi iconiche però è stato veramente uno dei più grandi critici musicali italiani un fanatico della musica potentissimo potentissimo poi era pazzo completamente pazzo però quella pazzia da genio indiscusso secondo me era un genio folle completamente folle ok ci sono dei documentari molto interessanti su youtube sulla sua vita sulla sua storia solo che poi la gente si ricorda del pollo si ricorda la gente che gli lancia lo scoppettino del batter in faccia durante il concerto e tutte queste cose qua poi lui ha cavalcato l'onda ovviamente perché lui dice sono io il coglione che prendo mille euro a sera siete voi che pagate quindi c'erano per vedere me maestro lui insegnava vero maestro assolutamente vecchio cuore va bene ci pensiamo capiamo dai dai una volta potrebbe essere una bella serata tu richard la organizzi tu io vengo assisto guardo capto assimilo ecco la verità poi di nuovo alcune cose le so ecco la vita la vita è il nemico sì sì poi è bello solo il contesto perché poi arriva la parola no la frasettina però c'è tutto il contesto dietro cioè perché la vita è il nemico ok e lui cosa dice perché la vita è il nemico eh non te lo dico adesso scoprirai vabbè dai questo è un piccolo spoiler si può fare è che la vita è il nemico è che ti mette i bastoni tra le ruote cioè è sempre pronta in agguato a rovinarti no lui lui è stato lui più forte più forte della morte ok come come chizzarmi ha capito 1124 di buon pizzo letteralmente la vita è il nemico in questo caso lui è il nemico della vita eh capiamo capiamo adesso capiamo capiamo adesso ci innervia ci innestiamo ci indippiamo 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 è bello come indippata invece di intrippiamo ci indippiamo ci indippiamo bene dai dai diciamo che abbiamo due capitoli il 123 il 124 non ricordo se ti era piaciuto il 23 no terribile ecco secondo me tra i due è il peggiore è terribile perché l'ultimo a me non è dispiaciuto sinceramente ciò che a te non è piaciuto invece a me non è dispiaciuto il 24 per quanto poi sia piuttosto semplice però non mi è dispiaciuto il 23 c'è Oda tipo che si è svegliato e gli hai detto senza iguare c'è la gente che si lamenta che deve fare mettiamo due mani due mani di bianco sul muro dove abbiamo caccato no per me sono stati proprio due ma guarda allora il 1223 la faccio veloce nel suo essere putrido è divertente perché ti costringe ad andarti a prendere tutto quello che tu hai letto su Eged quindi fai anche una sorta di esercizio stilistico di quello che ti ha raccontato Echirota male ma lo fai quindi nel suo essere putrido è proprio marcescente il 1123 perché non torna più niente col 1123 però è divertente perché lo devi fare in questo esercizio io l'ho fatto insomma mi sono divertito cioè il 1124 è un brutto capitolo no chiariamoci perché non ho manco fatto il reo non c'avevo niente da dire su questo 1124 non è un brutto capitolo ma è il vuoto pneumatico proprio cioè per me è stato quel classico capitolo tra virgolette di fine saga che capisco perché ci deve stare perché insomma ci devi mettere il punto e virgola però non mi ha detto niente ecco non mi ha detto niente boh invece a me non è dispiaciuto anche perché la parte con con Kizaru Sakazuki l'ho apprezzata soprattutto perché poi sono andato a rivedermi tutti i capitoli in cui Kizaru fa qualcosa o non fa qualcosa nel corso della saga di Egede e tutto sommato io il suo epilogo in questa maniera l'ho compreso poi magari ne parliamo perché so che te e te non mi hai piaciuto assolutamente così come ecco forse nel del 24 la parte che un po' mi ha fatto tra virgolette storcere il naso è la paraculata delle sono tutti vivi ma per voi sono morti sì sì ma lo capisco perché alla fine dici si sono si sono digitalizzati quindi di fatto un file su un computer non muore è vivo cioè è lì finché non cancelli tutto li rimane quindi lei può attingere alla memoria e ai ricordi degli altri fino al momento in cui sono stati vivi poi non so se adesso loro possono processare e sono diventate intelligenze artificiali e quindi possono proseguire ancora sarebbe un po' strano questo verrebbe meno poi la figura di Lilith in quanto Vegapunk però vabbè alla fine mi ha strappato una risata va bene così tutto sommato apposta però vabbè tutto questo casino bastava che dicesse tanto anche se ci ammazzano tanto siamo ancora vivi dove stava il problema vabbè ma perché umanamente lì non voleva morire vabbè ma salvatene uno non datene via no che cazzo egoista esatto esatto ti ricordi la pubblicità del egoista egoista bisogna andare a fare il meme con i 7 vega che aprono le finestre uno con una faccia così egoista egoista c'era anche la parodia napoletana di egoista ah sì sì e faceva egoista penso solo a te pensi solo a te che in questo contesto pensi a Danna perfetto se teniamo conto di quello che lega anche dal vomero quindi è uscito più che vomero sì quello del vomero parla diciamo cerca di parlare in un napoletano raffinato è più raffinato è più farlo raffinato e mica sono egoista io e vero io sono una persona attocata perché abito a vomero e quindi se abito a vomero io purtroppo ho questo anche tipo di pallata e vero sono molto attocato sembra un misto tra un napoletano sciccoso e un milanese va uscia e vero e quindi noi abbiamo questa pallata perché a noi ci piace di parlare così la vera nobita ma io ho conosciuto scusatevi per questa parete io ho conosciuto per sé veramente che parlavano così c'era un mio carissimo amico vecchio cuore Pierpaolo quando l'ho conosciuto per la prima volta lui non solo lui non era del vomero era di Posillipo quindi quelli di Posillipo sono quelli del vomero all'ennesima potenza i super vomeri cioè il vomero è Napoli alta Posillipo è come se fosse tipo la Hollywood di Napoli che stanno loro lì sulla loro rocca tutti super ricchissimi con queste vie sono i pariolini dei napoletani praticamente bravo esatto e quindi conovvi questo bravissimo ragazzo ottima famiglia ma parlava così e quindi la prima volta l'ho conosciuto io pensavo mi stesse prendendo in giro invece no parlava proprio così per chiudere per chiudere la parentesi è Posillipina meraviglia sì no voglio sapere da te poi magari io ho poche cose da dire no no allora partiamo dal 23 così andiamo un po' andiamo un po' alla volta vabbè la 921 la tralasciai perché è veramente ridicola fino all'inverosimile fino adesso a me stanno cadendo le palle a terra e le trascino come se fosse un sacchetto pieno di sassi io sono ormai 12 mini avventure io non pensavo che avrei visto mai una mini avventura peggiore di quella di Ace ci stiamo arrivando a livelli no ok guarda che la peggiore è stata quella di Capone Gambigi e quella del Germa era lì per lì poi ha avuto quel guizzo con il momento in cui va tolscisa non lo so quella di Capone a me è tutto sommato a me è dispiaciuto ma forse perché mi piace lui ma lui ha un vecchio cuore ma la mini avventura che è una chiavica con la facenda di Dressrosa l'amore lo scambio di persona con Lola e Chiffon che guarda caso Chiffon era Dressrosa però almeno succedeva qualcosa vedi questa di Yamato sono 12 mini avventure non è successo niente no no ho fatto la spesa partita mangiato non è neanche partita per il sta ancora fuori dalla capitale dei fiori sta andando verso in curi sta andando a fancuri no allora del 23 tutto sommato ecco c'è tutta quella parte che è centrale che è il cuore del capitolo con il loro il loro discorsone per me fa da tutte le parti sto pezzo perché allora qui vedi le falle di Oda perché nel momento in cui tu scopri che Yoka ti ha tradito non fai tutta sta manfrina la spegni cioè chi cazzo se ne accorge che Yoka si è si è spenta la spegni da lì poi se vuoi puoi organizzare la roba del messaggio qualora ti uccidessero ma una volta che hai fatto il messaggio e lo archivi nel caso in cui ti uccidessero fallo lo stesso lo stream chi viene lì in un secondo certo cioè poteva farlo direttamente lo stream lui si accendeva parlava io non voglio andare su tecnico perché poi ci ho fatto un'ora di video su quello che non tornava fumetto alla mano poi abbiamo anche parlato in privato sono cose di cui abbiamo discusso quindi non mi voglio ripetere però il fumetto secondo me ti suggerisce che in realtà tutta la manfrina che Vegapack ha fatto è perché lui voleva che le persone si rendessero conto nella sua testa e lui era stato ammazzato dal governo mondiale è andato tutto all'opposto è stato lui cazzo nel momento in cui scopri che l'arma ce l'ha il governo già da lì è un punto è un punto fermo non dico che è una prova perché tu non hai le prove lui dice io non ho prove per dimostrarlo è già far ridere quello però cazzo perdonami c'è tutto tutto è Gad di far vedere che loro hanno tutte le tue camere sanno dove stanno tutti e sei c'hanno le geolocalizzazioni i mostri marini che teoricamente sono geolocalizzati non c'hanno una geolocalizzazione dai adesso si fanno mezzo mondo ti vuole un mese più o meno arrivare a Marie Joaquin viaggiando un mese andando tutta dritta anche se vai velocissimo non so quanti nodi può andare mettici due settimane ma sparisce insomma e poi come cazzo ti è arrivato la Marie Joaquin la le sea beast weapon è volato allora lasciamo perdere questo ma il fatto che non si è geolocalizzato io però l'ho letto lo giuro sono schiattato a ridere meno male non ho fatto neanche la blind per quella settimana che stavo in vacanza quando l'ho letto da solo nel buio insomma della mia penombra io stavo con le lacrime ho detto ma questo è un più grande scienziato di tutti i tempi non ha fatto una geolocalizzazione ma ancora peggio per me la cosa ancora peggiore è che questi dovrebbero essere gli scienziati più grandi di tutti i tempi 500 anni avanti nel futuro se ne sono accorti tre mesi dopo che c'era quella tre mesi dopo con tutte le roma per sbaglio a caso mei coglioni cioè è una cosa proprio allucinante che poi comunque non torna perché noi abbiamo visto che nel momento in cui tu ti disattivi dal punk records anche per un attimo ti arriva il pinguino ce l'ha fatto in tutti i modi anche nel 1124 lì ho detto non sono più collegata a York quindi loro erano sempre collegati cioè nel momento in cui lei si era disattivata un attimo per fare la telefonata pronto astri di demenza sì sì io c'ho il punk c'ho il punk review posso da tutto la fiamma eccetera loro se sarebbero dovuti accorgere immediatamente ma che cosa sta succedendo ma perché questa si è disattivata questa che sta sempre collegata 24 ore su 24 soprattutto per i nostri bisogni perché il fumetto ti fa vedere anche quello loro erano sempre collegati con lei ed è una roba proprio allucinante sotto qualunque punto di vista e forse veramente per me sottolino una delle cose più brutte più abbiette non della saga ma di tutto One Piece non arriva forse ai 20 mesi di Ace nella banda di gestazione non lo so però per quanto riguarda la scrittura questo è proprio stato uno dei punti proprio più ma proprio peggio congegnati di tutto One Piece che peccato perché il capitolo 1123 come capitolo in sé anche dal punto di vista grafico è proprio bello ci sono certe cose che a me mi hanno fatto impazzire tipo la doppia splash page con la nave dei vichinghi no dei giganti che dicono facciamo rotta verso Elbath che è proprio bella perché Oda ci tiene proprio a farti capire quanto è gigantesca questa nave così come come dettaglio mi era piaciuto tantissimo il fatto che lo raccontavo lunedì scorso quando Oda fa vedere Sanji che si sta avvicinando verso Vegapunk e fa vedere il cadavere di Vegapunk parte che poi fa anche ridere loro si sono messi a festeggiare col cadavere vicino poi solo dopo si sono accorti ah però sono morti siamo tristi però comunque hanno festeggiato col cadavere va bene Rufi dai Rufi che era secco e marcio nelle mani del codice hanno comunque festeggiato col cadavere e ci sono quelle due vignette dove Sanji si avvicinano al corpo di Vegapunk Oda non ti fa vedere il volto di Vegapunk perché chiaramente è sì un cadavere quindi anche per rispetto per tatto non te lo fa vedere però raccontavo che dentro al mondo del fumetto di solito il tenere il volto in ombra di cui Oda poi è sempre maestro è sinonimo di un personaggio che sta nascondendo qualcosa quindi dal punto di vista ecco qui della grammatica del fumetto io ho apprezzato il fatto che il flashback di Vegapunk sia partito da quel volto in ombra perché sì Oda non te l'ha fatto vedere perché è morto ma non te l'ha fatto neanche vedere perché voleva sottolinearti che tutto sommato Vegapunk stava ancora nascondendo qualcosa allora quando io da lettore vedo queste cose mi esalto perché sono chicche magari sono cose che tu le processi anche inconsciamente non scientemente anche inconsciamente però te ne accorgi proprio quando leggi tutto il pippone il test di Vegapunk la parte più divertente è la lettera io lì mi sono spicciato addosso le risate che si fa gli spoiler no ma poi scusami eh anche qui Oda ti mette in mezzo al fatto della modalità stealth ma quindi se bastava entrare in modalità stealth ecco sono tutti Vegapunk ma perché York non è entrata in modalità stealth si risparmiava tutto il casino possibile immaginabile e fine aveva risolto boh non lo so ci sono veramente delle scelte brutte narrativamente parlando la cosa che dicevo dicevo oggi è che fortunatamente sono tutte scelte che non inficiano alla trama principale cioè rimangono localizzate qui su Eged c'è il chip di comando e queste cose qua dei satelliti tutto il resto rimane qua è un brutto inciso in una saga molto bella perché poi ci sono dei punti altissimi sia da livello di scrittura che anche come elementi perché tra la la dicotomia tra l'etica morale e la religione hai la scienza e Mika che è il dio e quindi poi non sai mai dove finisce uno dove comincia l'altro ci sono dei punti molto molto interessanti e poi ci sono queste cose che sporcano un po' la narrativa non che One Piece sia perfetto in tutte le saga no assolutamente però queste sono proprio sono proprio delle mancanze d'attenzione che da Oda non ti aspetti sai cosa mi è sembrato questo il 1123 episodio 8 di Guerre Stellari Ryan Johnson colpisci ancora perché è preso l'abbiamo fatto mille volte questo discorso da solo è bello da solo è bello è un bel film poi c'è la parte del pianeta del casino che è un po' bella è una merda quella è veramente una merda però da solo è proprio bello come film cioè io ogni tanto me lo riguardo mi riguardo le scene mi riguardo la scena finale Luke Skywalker contro l'esercito no lui che prova ad allenare i re ci sono delle scene che sono proprio belle però nel contesto di Guerre Stellari non è Guerre Stellari no no è un universo parallelo dove succedono cose che non dovrebbero succedere in Guerre Stellari esatto il 1123 è esattamente così cioè preso da solo cioè delle cose che sono proprio meravigliose ma anche proprio l'ultima vignetta no per me l'ultima vignetta è 1123 secondo me è con loro che tengono in alto Usopp e Luffy che tra l'altro poi fa cioè vedevo questa cosa qui anche qui tecnica se ci fai caso il fatto che loro stiano portando in alto Usopp e Luffy fa da contraltare a quelle che sono le ultime due vignette della pagina precedente dove vedi Vegapunk sul Vegatank messo in maniera inclinata che sta andando verso il basso cioè dal punto di vista registico tu c'hai questa no c'hai questa cosa messa in contrapposizione e quegli altri invece poi che lo prendono l'ultima vignetta è 1123 è molto più riuscita rispetto alla vignetta del 1124 dove loro festeggiano che è molto anonima se ci pensi perché per funzionare quel tipo di diciamo vignetta così corale con tutti quei personaggi quando avrebbe avuto bisogno di fare la doppia splash page intera per fartelo anche rimanere per bene in testa invece lui l'ha proprio compressa lì perché doveva di nuovo il classico cliffhanger di merda con l'uomo in ombra e io dico va bene Oda che ci devi tenere i colpi cliffhanger però siamo pure arrivati al capitolo nel 1124 sì anche perché a parte poi che speculi chi è chi non è va bene poi ci si diverte però effettivamente chiudere la saga di Eged con una doppia pagina di questo tipo dove avevi solo e soltanto loro che brindavano va bene anche la colonna di destra dove hai le varie sequenze però proprio la parte centrale senza la scenetta sotto dove vedi la nave che va via e poi ti porta sull'uomo col cappello lì perché alla fine è fine a se stesso va bene è un po' come quella volta di Zoro con Emma e hai tutto il flashback della volpe sì è lo stesso effetto che sembra un po' lì è già meno forzato questo rispetto a quello di Zoro perché quella la volpe che diventava andava via era bellissimo già qua lo riesco ancora accettare però effettivamente tutto il tavolone con loro che festeggiavano proprio per chiudere la saga la saga è chiusa basta come hanno fatto anche a Dressrosa con loro che festeggiavano le voci del narratore è chiusa e andiamo avanti però vabbè anche perché hai capito che andiamo a Elba non è che ve lo dico non lo so io ok ok dicevo questa cosa qui dicevo io purtroppo ma anche tu ho ancora i flashback del Vietnam del 2008 ok andiamo finalmente verso lì verso l'isola degli omini andiamo verso l'isola ancora no 2008 2006 2006 2006 è finito Water 7 andiamo verso l'isola degli omini pesci e quindi passarono poi cinque anni per arrivare all'isola degli omini pesci 2011 2011 allora io ormai ho questi flashback del Vietnam quindi finché loro mettono piede su io che non ci credo anche perché adesso vorrei vedere una micro panoramica mondiale io vi vedo i cinque vecchi che parlano non è possibile un capitolo dove i cinque stronzi si guardano agli occhi ma che cazzo è successo oddio questo questo e quell'altro una cosa così me l'aspetterei io questo capitolo 1124 mi aspettavo i cinque vecchi che parlavano non è che c'avevo questo pensiero il pensiero non ce l'ho mai più considerando che domenica prossima cioè l'uno di settembre è l'episodio dove cominciano a raccontare di Sabo a Marie Joanne nell'anime quello dopo poi c'è quello dopo quello dopo è quello in cui Imu parla diciamo che dice la prima parola che appare sul trono quindi a me non dispiacerebbe che avessero fatto anche questa pausa tattica dell'anime per far sì che arrivi il capitolo in cui lo vedi e quello parla nell'anime che avrebbe senso perché almeno non c'è così freghi anche il lettore perché il lettore si aspetta di sentire la voce dell'anime per capire che è così giochi su due piani paralleli sarebbe molto interessante sì anche perché insomma ne avevamo parlato non se lo posso spoilerare dentro l'anime questa cosa qui cioè non ti possono dare una voce maschile o femminile cioè se Oda non ti fa vedere i Musama ma capiamo lì puoi usare veramente solo una distorsione vocale che mette la voce sia maschile e femminile che non sai che cos'è è la soluzione che mi aspetto io qualora non vedessimo i Musama ma non penso al prossimo capitolo se vedi i Musama però i cinque vecchi li vorrei vedere che parlano almeno Saturn Saturn è ancora lì Saturn sta ancora là deve raccattare quantomeno Lucia e Kaku io questo vorrei vedere se ci dicono qualcosa dopo tutta sta faccenda almeno quello eh capito e poi c'è questo 1124 mi è sembrata proprio ecco quel classico capitolo dove ho detto ah beh sì prima di una chiusura poi ci scriviamo quattro cazzate qua in questa casa allunghiamo un po' il brodo e poi alla fine invece di allungare il brodo è ristretto con quella doppia pagina che mi ha lasciato proprio mi sembra proprio buttata così quella vignetta del festeggiamento magari ancora è abbastanza divertente quello che dice Ruffi non mi interessa se siete i miei compagni oppure i miei avversari tanto io divento re dei pirati e nel momento in cui lo dice dall'altro lato dell'oceano c'è Bachi fa io mi sono immaginato perché io diventerò dei pirati tra l'altro diceva mi diceva ieri il mala fa tutte le occasioni lui dice sempre io voglio diventare dei pirati quando doveva dirlo non l'ho detto perché non ha detto io voglio diventare dei pirati il tesoro è mio è cambiato battuta lui è cambiato battuta e poi tutto il capitolo non è brutto il 1124 però mi ha lasciato abbastanza ti dirò la parte con Morgan se vivi l'ho apprezzata anche se continuo a non vedere il fine a parte il fatto che ti sta tenendo viva vivi perdono gioco di parole perché deve ricollegarsi e ricongiungersi con la ciurma però sono sempre finora in tutta GED molto fini a se stesse queste parti di Morgans non c'è stato quel momento in cui dice adesso Wapel gli racconta c'è il momento di rottura che dà un senso anche al fatto che Alvaro Vitali spiasse dal buco della serratura finora è lì sono lì con loro ma non è successo niente di più di meno tanto deve fare il giornale questo fa sì alla fine cioè quell'inciso di Morgans serve per farti capire che il giorno dopo esce The Show Must Gone cioè questo è The Show Must Gone secondo me The Show Must Gone ed esce comunque la storia Luffy cappello di paglia ucciso Egaman sì esatto quindi tutta la gente anche delle cose che abbiamo detto sì il mondo si sta inavvissando la colpa è dei pirati quindi Luffy dal cappello di paglia che ha fatto ha ammazzato Egaman grande scienziata di tutti i tempi il governo mondiale dentro le sale di Kusama canta e fanno il trenino Bridget e Bardot e Bardot e Bajot e Bajot e Bajot A-E-I-O-U-I-M-U sì 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 fanno quella roba lì e poi c'è tutta la famigerata insomma storia di Kizaru e a me ha lasciato perplesso una cosa e poi quello che ho detto durante la Blind l'ho anche ripostato per far triggerare le persone e che sapevo che si sarebbero triggerate e l'ho fatto per quello mica per qualche altra cosa ma a me la cosa che mi ha lasciato sorpreso di tutto è il fatto che le persone mi hanno detto che loro hanno empatizzato con questo personaggio che dal mio punto di vista lo sottolineo è invece forse uno dei personaggi più esecrabili di tutto un piece cioè ma veramente è come per me poi pensate come volete è esattamente come quei nazisti al processo di Norimberga a cui gli raccontano che cosa hanno fatto loro raccontano che cosa hanno fatto e poi piangono e dicevano non volevo ma dovevo seguire gli ordini allora leggere che le persone hanno empatizzato con un personaggio che per me è esecrabile ma che è scritto bene lo sottolino questo perché come dicevi anche tu prima quando tu ti vai a rileggere Ged e poi ne avevamo parlato tante volte cioè tu ti accorgi che Kizaru è quello che perde tempo lo colpiscono non si rialza ci mette due capitoli per rialzarsi e quando vuole colpire Vegap anche le prime volte chiude gli occhi e poi li richiude e poi li perde tempo e poi quasi non fa finta di combattere però poi ci si trova insomma la spadata gliela deve dare sì anche perché Vegap aveva già il buco in pancia di Saturn che gli aveva fatto con era già praticamente il pente gli ha dato il colpo di grazia perché gli faceva pena cioè va bene e ci sta però insomma come scherziamo anche noi durante il dip è proprio il super statale della leggenda cioè cioè lo ha fatto veramente perché non poteva e non voleva perdere il posto fisso humanamente lo capisco anche no anche perché alla fine ti ho detto io l'ho riletto il capitolo in cui c'è tutto il suo i suoi passaggi no e ci ho fatto anche un video poi lo pubblico mercoledì dove ho fatto un po' il punto della situazione però alla fine lui il lavoro lo fa sì sì perché lui l'ho ammazzato no e quello che poi succede qua sono molto stringato perché se no passo mezz'ora di nuovo a parlare cioè lui si incazza e si mette poi a piangere e fa questo sbrocco perché Sakazuki gli dice te sei un cazzore ma sta ancora cazzeggiando non fai qualcosa nella tua vita per una volta sola e lui e lui si risente capito e lui risentivo dice ma non ti puoi perdere è pure peggio lui si risente perché lui dice io il lavoro l'ho fatto io l'ho sempre fatto il mio lavoro e non sei nelle condizioni tu di dirmi a me perché io ho fatto fuori il mio amico e l'ho fatto fuori lo stesso perché fosse il mio amico come Zechila con Pappalardo sì sì mai più questo è quello che succede a me ti ripeto a me è lasciato un po' perplesso per questo appunto di tutto che le persone abbiano empatizzato con questo personaggio a me tenendo conto di quello che abbiamo sempre detto a me mi ha lasciato abbastanza cioè quella classica cosa cioè è proprio tipicamente giapponese dove il giapponese tra l'onore l'amore e il dovere sceglie il dovere sì sì è tipicamente sì sì è tipicamente giapponese quindi lo comprendo però io personalmente questa è soggettiva quando vedo questi personaggi così sono scritti bene cioè se ti danno questa sono molto nipponici sono molto nipponici cioè dal punto di vista della scrittura lo ribadisco è scritto bene perché Oda non si contraddice con quello che ti ha fatto vedere sui Ked soggettivamente mi è sembrato veramente un personaggio proprio esecrabile sotto qualsiasi punto di vista proprio il classico napoletano che chiaglie e fotte questo è ma sai qual è il punto è che se Sakazuki non gli avesse detto niente lui non avrebbe detto niente perché sarebbe finita così lui andava a casa magari si faceva il piantino a casa si ubriacava come fanno i giappini la sera poi a Shinjuku e il mattino dopo in un ufficio timbava il cartellino e the show must go cioè anche qua questo è sì senti parliamo di cose serie tanto questa cosa è Pantozzi Pantozzi lei dai dimmi la verità dai dimmi la verità sì abbi il coraggio di dirmi la verità di quante persone ti hanno scritto magari su youtube o in privato chiedendoti se Kizaru e Sakazuki sono fratelli di Sakazuki sì sì abbi il coraggio di dire questa cosa in live venerdì hanno chiesto ah sì subito sì sì nei commenti dei video no non hanno fatto sono contento anche perché probabilmente quelli che potevano chiedere li ho già spazzati le hai cancellati come come un Imusama qualunque come un Imusama esatto come un re del mondo qualunque però no vabbè la pazzia la pazzia da me mi hanno scritto in privato ma ho visto che Kizaru ha chiamato no che Akai non ha chiamato Kizaru fratello ma sono fratelli di sangue non ho risposto non mi dite niente non mi sono mi ho detto lasciamo stare chiaro come se noi non diciamo mai bro fratello no no è vera questa cosa no no è vero e poi sono andato a vedere anche un po' in giro su internet perché se lo chiedevano anche nei grandi scienziati soprattutto angloponi del web e quando mai e quando mai i grandi scienziati angloponi del web che insomma hanno cominciato ma quindi sono sono parenti allora poi hanno cominciato a fare già i video i video non li ho visti però c'era c'era quella quella cover su richiesta quella dove c'era Sakazuki con Kizaru non ti ricordi sì e allora hanno cominciato a punti via perché Oda già ci aveva preconizzato per forza questo questo legame molto stretto quindi per forza devono essere fratelli sul serio e insomma si fa per scherzare però devo cercare subito se c'è qualche video aspetta Kainu Kizaru Brothers vediamo perché poi se non sbaglio in giapponese Oda utilizza il termine Kyodai che è fratello proprio di sangue ma è anche diciamo fratello quello che tu consideri tuo fratello di sangue anche se non è di sangue io e te potremmo definirci tali capito ci sono quelle cose lì quando tu passi tanto tempo una persona e crei un rapporto che è il di più del essere colleghi cioè c'è fratellanza certo quello è quindi vabbè sti cazzi no comunque per ora non c'è ancora niente sono deluso sono deluso da internet sono molto deluso per ora così come ho visto che la gente si è triggerata sulla constatazione di Zoro aspetta aspetta ha visto qualcosa ho visto una copertina aspetta no 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 aspetta 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 ha visto qualcosa di guarda questa non so cosa sia Oda must be joking fleet admiral Akainu and admiral fuggitora are brothers brotherly love ma è un video si si mazzo 3500 eccola eccola l'immagine la cover su richiesta eccola lì che meraviglia ma quanto dura ma dura 56 dai mettilo un minuto dura un minuto mettilo mettilo non so se si sente dimmi se si sente si sente no no aspetta allora mandami il link lo mando io si subito subito ma questo mi sa che quel canale dove avevo trovato il video barba nera aveva mangiato tipo lo sperma di non mi ricordo ah si te l'avevo mandato io che aveva mangiato si 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 te l'avevo mandato io di barba bianca si bravo quello di barba bianca che aveva fatto soffocotto sotto la coperta è lui è lui l'ho riconosciuto subito anima elisa è sicuramente lui allora vediamo scusateci ma siamo in questo momento di condividi lo schermo questo lo facciamo più grande eccoci qua condividi ci siamo vai vai quanto dura sto robo è finito originate from the land of wano let me know in the comment section what you guys think ok che meraviglia cioè in 50 secondi hai tirato un filotto di roba mamma mia dopo lavoro ma un filotto di roba che poi non aveva senso cioè vabbè è fratello anche di Ashura Doji si sono tutti sono tutti fratelli dell'HP sono come i cavalieri dello zodiaco lo sai no te lo ho raccontato si 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 sono tutti fratelli tutti i figli dello stesso padre tutti i figli dello stesso di Masamune Hido e va bene che tresciata madonna meraviglia meraviglia va bene no per il resto ci abbiamo finito nel senso non so se tutti ci hai fatto un'idea di chi possa essere il personaggio a me io ho fatto una teoria perché alla fine ho collegato diversi pezzi che con me ha una sua logica poi sia o sia non lo so non so se hai avuto modo di vedere però a parte che quel tizio lì è palesemente il tizio che parla con Crocus bravo per forza per forza lui e da lì poi mi sono fatto due domande e mi sono detto quali sono le cose che Oda può rispondere visto che siamo all'ultima saga se fosse davvero Scopper Gavan come dicono tante persone uniresti due o tre fili insieme ovvero dove è Scopper la nave nera che usa va in giro quello lì è cicatrice di fuoco e la Oro Jackson che si sono dipinti hanno cambiato le vele quindi va in giro con la Oro Jackson e i mulinelli che fa la stessa creatura che ha fatto i mulinelli contro la battaglia con Shiki che era con una roba nell'uovo così metti tutto assieme in pacchetti e risolto sì boh sì cioè a me non dico che dà fastidio perché ormai come scrive Oda lo sappiamo però secondo me una delle critiche che mi sento di poter fare in tutta tranquillità a Oda è che secondo me a Heged gli è mancato un po' di coraggio un po' qualcosa in più cioè si sarebbe dovuto potuto sbottonare un po' di più per che cosa dici per esempio con il discorso di Vegapunk sì la roba sull'addio la roba su Joy Boy l'avrebbe dovuta lasciare in chiaro perché tanto la vera verità sulla D Vegapunk non la può sapere perché quella la scopri solo all'Aft quindi secondo me ce l'avrebbe potuta raccontare senza problemi qualcosa che ci dava quantomeno a noi lettori di vecchia data si sarebbe dovuto sì si sarebbe dovuto sbottonare un po' di più e arrivare al 1124 ancora con una nuova silhouette dopo che due capitoli fatti ha messo un'altra silhouette ecco per esempio in chat dicono ma non è che quella silhouette è Saul ma che bisogno c'è di mettere Saul di nuovo in silhouette te l'ha fatto vedere chiaro l'hai visto pulito due o tre settimane fa come è stato col cappello che se la rideva mentre Vegapunk parlava non ha senso cioè non è nessuno di conosciuto quello perché non te lo metti in ombra alcuni dicevano ma potrebbe essere Shanks ma che senso ha mettere Shanks in ombra sarebbe prendere in giro il lettore sì 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 esatto esatto quella è prendere in giro il lettore non puoi prendere in giro il lettore così è un personaggio nuovo nuovo può essere tra molte virgolette ma è qualcuno che ad oggi non ha idea di chi sia esatto e poi ho visto che la gente si triggerata con Zoro ma ma che che coglioni ma cosa devi dire c'è Zoro è Zoro è sempre stato così è quello è quello ha detto quello là c'è un imperatore e piange per un vecchio anche perché Zoro di tutti i Mugiwara è quello che non ha empatizzato per niente con i Vegapunk certo è rimasto sulla Sunny per metà della saga poi è sceso ha picchiato e poi è morto cioè quindi che doveva dire sì sì vede il suo capitano che piagna e dice ma stava un culo beh sì quindi cioè Zoro è Zoro Zoro ha fatto lo Zoro Zoro ha fatto lo Zoro infatti è così era strano se lo faceva Sanji una battuta di questo tipo ma Zoro va benissimo così eh sì anzi non so se invece hai visto la gente che si è triggerata perché le preuzioni fanno cagare sono gente che dicono che Jimbe si è impazzito perché dice che non aveva mai visto Rufy così disperato no facendo riferimento alla roba del pre-times che quando poi Jimbe lì semplicemente non mi aspettavo che si deprimesse così per questa faccenda va bene che dovevamo salvarlo ma è pace e c'è no sono Jimbe traditore che non si ricorda questa non l'avevo vista non si ricorda no di come aveva fatto prima del timeskip tutte queste cose qua è semplicemente tradotto di merda come il solito direi io vi voglio solo dire perché a Gabriele vi ho mandato insomma vi ho mandato così che c'è ancora gente che mi chiede cosa doveva chiedere Zoro a Vegapack esatto sempre tanto adesso lo odia quindi basta non gli deve chiedere cosa doveva chiedere Zoro a Vegapack perché sei morto stai facendo piangere il mio capitano non si fa quello è uno dei quattro imperatori così come non scherzo ancora la gente chiede ma l'incidente di Gadd quando arriva e così sono i buchi di trama con i veri i vesti sì 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 assolutamente no meno male meno stasera ci siamo più divertiti ma perché poi non è che di nuovo non è stato nel leggerlo il 1124 ci sono delle cose che mi hanno fatto anche ridere tipo i giganti che dicono ah finalmente stavamo preparando questa festa cioè loro c'erano rimasti male che per un vecchio morto non si facesse più la festa pure loro a un certo punto uno dei giganti dice sì bagnate a porco come si dice a Napoli ma a me mi ha fatto morire proprio dalle risate una stronzata del genere cazzatello oppure lo ribadisco dopo a Luffy che dice mi ho preso il male perché insomma volevo prendere il One Piece quindi che siate amici oppure siate amici sti cazzi perché da sti cazzi me la vedo io dall'altra parte Buggy ride a crema pelle è la cosa figa non dico una questione se vuoi ecco che cosa cosa ti aspetti da Elbaf seriamente perché io vi una roba come Zoo deve essere una roba come Zoo non può essere una roba perché io vedermi la tiritera col nemico o cose così no no ma non avrebbe senso appunto ci pensavo anche io cioè mi hai anticipato la domanda ecco la penso come te questi non possono mandare a Elbaf e all'improvviso trovano un nuovo dittatore ecco l'occhi si sveglia incazzato la mattina si sveglia così in tutti i 111 volumi di One Piece il resto dittatori io no via via questi giganti mi aspetto proprio una roba cioè per me dovrebbe essere una roba come Zoo vanno là gli raccontano magari magari trovano Big Mom che si è sposata la simonologhi stanno dando stanno dando asilo a Big Mom e a Kaido dentro la casubola no deve essere una roba veloce vanno parlano si incontrano con Saul la parte strappa lacrime una storia strappa storia e magari risolvono quelle due tre cose con i giganti e poi vanno verso il finale non lo so non può essere una roba non me lo immagino un plot lì dentro cioè o salta fuori Barba Nera così a caso e quindi c'è la battaglia con gli altri imperatori o arriva Cross Guild per dirti ma altrimenti io il plot non riesco a immaginarmelo cioè arriva lì a Lucevino qualche soluzione però che cazzo devono fare diciamo che lì deve essere la parte in cui ecco mettono mettono Kuma a fare il prete del culto di Nika sì a Luffy magari gli raccontano qualcosa in più di Nika lo dice ma che cazzo sta da dire non cagare cazzo diciamo che si picchia con il rosso potrebbe essere il momento che c'è lo scontro che tanto attendi ma che fa Shanks ritorna indietro ritorna indietro non lo so è andato a fare una girata no 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 proprio perché non riesco a immaginarmi il cattivo cioè con Zo diciamo che avevi già il plot ben delineato da 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 in casa l'avevi Kaido che cominciava a entrare nella trama già Big Mom comunque prima da Fishman Island barba nera con i giganti non c'è niente che fare una prova contraria l'unico è il rosso boh eh poi di nuovo cioè Shanks l'ha già visto stava ad Elbaf si abirazzava appunto cioè ho trovato l'Ele Kid che è tornato e quindi non lo so combatti contro Kid ma sì ma alla fine si dice no ma che combatterò contro Kid ma non lo so ma intanto poi li ritroverò tutte e due trovano a Kid tutti i fasciati ovvio non dico che se li portano a bordo ma quasi non lo so questa è la cosa che mi incuriosisce di più eh da qui non voglio dire che è stato bravo perché eh però noi sappiamo ecco per una volta adesso sappiamo dove dobbiamo andare però non c'è uno scontro in vista no cioè qua ci deve essere un inizio di risoluzione di nuovo ora siamo arrivati al capitolo 1924 Oda Oda è sopravvissuto a tutto ora finisce pure Jujutsu Kaisen lo stanno finendo tutti i manga storici e non non di Wigley Shonen Jump della storia dei manga è rimasto solo One Piece ormai addirittura non so se lo sai Shueisha ha indetto il nuovo concorso ah no non lo sopevo per trovare il nuovo Shueisha ha indetto il nuovo concorso diventa l'autore del battle manga del futuro ok e poi lo fanno se c'è questo fanno da 50 anni indicano concorsi per trovare autori nuovi ma questo è specificamente targettizzato sui battle manga per cui te devi mandare un battle manga che diventerà il battle manga del futuro e addirittura poi ci sono quattro grandi autori di cui Christian e Jump che fanno da giudici c'è l'autore di My Hero Academia c'è l'autore di Bleach c'è l'autore di Jujutsu Kaisen e poi c'era l'autore di Black Clover ok perché insomma sì One Piece sta per finire ma tanto non finisce sta ancora là ma tutti gli altri sono tutti finiti quindi hanno bisogno di un nuovo battle manga e questa cosa però se ci pensi comincia a diventare tra virgolette drammatica che stanno finendo tutti One Piece ancora no capitolo 1124 non sappiamo ancora un cazzo ovviamente no non sappiamo ancora niente ne sappiamo esattamente quanto ne sapevamo 27 anni fa e ho capito ho capito Oda quanto ci vuoi tenere ancora sequestrando questo fumetto se no sarebbe bellino se effettivamente fosse una saga molto easy cioè proprio Tarallucci e Vino e poi andasse sugli altri cioè ti ti porta avanti brevemente le trame degli altri tre imperatori e clash c'è la fine clash finale con tutti quanti cioè Barbanira deve deve andare a prendere almeno un'arma ancestrale c'ha il trick di Saturn qualcosa Heged ha portato via perché qualcosa è andato a prendere Tarallucci e Capo vedremo non lo so sono d'accordissimo con tutto quello che hai detto non può assolutamente essere una saga complessa con i nemici cioè a meno che veramente Loki non impazzisce viene non lo so posseduto dal lato oscuro del trickster e quindi comincia non lo so a impazzire così oppure impazziscono tutti i marins dobbiamo distruggere tutti questi maledetti giganti che per 800 anni sono sempre stati fuori dal governo esatto gli ideologi si inalverano si allora impazziscono tutti vediamo sono molto curioso sono veramente assai assicurato sto provando anche a immaginare magari ci sono quelli che chiedono in Nika quelli che non chiedono in Nika qualche cazzata di questo tipo però sicuramente non si picchiano cioè più che altro deve essere anche il momento in cui Luffy si riunisce e vede per la prima volta gli altri tre giganti che stanno sotto il suo comando che non ha mai visto vero vero c'è Irin con Gerd Rock e Skolberg gli altri non li hanno mai visti e e magari questa deve essere la saga invece ecco mi racconta del power up definitivo di Usopp certo per cui i giganti devono conoscere la loro vera divinità perché loro aspettano il Nika ma in realtà la vera divinità sarà Usopp e quindi poi mi aspetto la statua ancora più gigantesca giusto su Elba cioè devono fare una statua proprio come quella del Signore degli Anelli che è stato degli antichi re sì com'è che si chiamano si chiamano ecco com'è che si chiamano gli no mi chiedi troppo no non è Amondina era la fiamma com'è che si chiamano i è mia sorella che conosce tutti i nomi del Signore degli Anelli non mi viene in mente gli Argonaut bravo bravo no non gli Argonauti gli Argonaut gli Argonaut sì che poi sono gli antichi Numenoreani però si chiamano gli Argonaut gli Argonaut e capiamo va bene va bene va bene a posto così direi che possiamo tirare lo sciacquone dobbiamo tirare lo sciacquone tiriamo vai vai processiamo eh aspetta mi si è ingrippato tutto ormai neanche più il computer vuole processare più processiamo processi in Italia fanno tutti un po' così per fortuna città chi fa il processo il lunedì e grazie al cuore eh grazie al cuore di vuolo grazie di cuore al volo a Crocus il malvagio Palax 95 Ivadisin Ironside 177 grazie ad Andrea Iken 91 Maris 22 92 GbAz Giacomira 82 5 Enrico Zannetti grazie a di nuovo Enrico Zannetti pure per i beat Luke Big Paradise Tambo 890 mio fratello Webjack vedete con mio fratello Webjack 92 i sangue non sapevo che sei fratelli eh visto Buster Gaijin Pellic 1969 Paiocots Enimos Randy Lilguap 22 Tom 93 e Grimmer per l'abbonamento insomma farai la top e flop di Eged sì e non so se la faccio questa settimana o se aspetto comunque settimana prossima per vedere se effettivamente è finita Eged ma è finita Eged perché io dentro è finita è finita ti fa il raccordino ma è finita esatto cioè io dentro di me mi aspetto il capitolo conclusivo che i cinque stronzi che parlano così giusto per dare anche a me stesso il contentino per mettercelo ma non te li fa vedere secondo me perché adesso loro sono là che stanno temendo la poltrona che sparisce che loro mostrano aspettare che torna Saturn no e c'è Imusama dentro lo stanzino che sta ancora no la terra sudato poi facciamo i conti ve le tolgo tutte in piedi un mese dovete stare ma le dici stronzi operaio di prima grazie anche a Z Rest in Peace per l'abbonamento sì comunque la top e la flop di Eged le faremo e sarà un unico appuntamento accoppiamo tutto perché insomma comunque è una saga piccolina non c'è bisogno di fare una serata per la top e una serata per la flop anche perché poi 60 capitoli sono eh sì sì ce la ce la sbrighiamo ce la sbrighiamo al volo come immaginate l'ordine degli eventi da adesso alla fine del manga altre isole fra Elbuff e Laugh Tale eh allora l'unico dubbio mio è se possono andare su Lost Star punto mi verrebbe anche da pensare che Cicatrice di Fuoco possa aver messo l'ultimo road su Lost Star a me ti dà un espediente putrido per andare a vedere l'articola altrimenti non ha senso cioè vedi Elbuff e vai a Laugh Tale punto e poi torni indietro a fare botte Elbuff come Napoli vedi Napoli poi muori poi diventi re dei pirati sì di fatto quello è ok ma il video Vegapan canale alfabeto funziona quando uscirà sabato e non c'è il capitolo quindi lo facciamo uscire sabato bravo 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 e quindi ci rileggiamo questo questo grande capolavoro fantasy del discorso tutto per intero e vediamo quanto lui ti passo lo script completo se vuoi se non è un problema se no insomma non lo è se leggi le cose brutte sull'internet poi sbagli anche tu ti ringrazio dai dai ti ringrazio c'è il video Akainu e Dragon fratelli vale lo stesso pensaci quindi è zio Akainu è zio di Luffy Akainu è zio di Luffy vero zio forse è il vero padre visto che Dragon è il cugino capiamo capiamo Saturn ecco la cosa scusa Saturn corrobottore secondo me ci deve morire così che Caterina possa fare danni ancora più pesanti ma robottone si è spento purtroppo una cosa non abbiamo parlato secondo me che io ho trovato interessato eccomo tra le tante cose l'abordata di Aki sì che è diciamo così ad personas sì 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 vabbè ma è sempre stato ad personas eh oddio anche Ray lì quando nello stanzone buttava giù soltanto gli stronzi ma non l'ha mai spiegato da questa cosa no no come funziona è la telefonata con quello di Shanks con Yoku lo chiama questo Aki che sapeva esattamente dopo 800 anni chi colpire e chi no perché era l'Aki di Rufy del passato che sapeva sì sì vabbè no però al netto di tutte le cazzate è interessante questa cosa ma pure i giganti dicono non ho avvertito nessun tipo di ostilità sì sì ma perché un po' e boh no effettivamente a parte tutte le fregnace è strano perché dici come fa a scegliere chi è avverso e chi no a chi a Emmet perché i poveri marine che non c'entravano niente che sono svenuti non mi sembravano ostili una cosa ecco a me mi fanno una pena loro che quelli sono quelli veri pagati no come come diceva Pasolini pagati due sticci no che vogliono questo si sottrava diventata guerra insomma guerra dei poteri forti e poi un'altra cosa me l'ho dimenticato di dirti che poi era una cosa che c'eravamo anche già domandati alla fine Emmet utilizza Lucky di Joy Boy però non utilizza energia sua ma si spegne lo stesso si spegne lo stesso infatti questa cosa mi ha lasciato perplesso perché non si è capito effettivamente come lui si sia acceso non si è capito se fosse già comunque attivo e lui si è semplicemente svegliato nel sentire i tamburi perché l'ambizione di Joy Boy non sembra che lo alimentasse cioè non era il carburante quello era dentro nella corda quindi era chiuso dentro lì come se fossi in uno scrigno insomma conservava quindi non ho capito onestamente non ho capito ok non ho proprio capito è una bella curiosità un giorno lo sapremo perché poi Vegapan dice faccio gli esperimenti provo a mettere dentro l'energia ma non funziona lo rimanisce pure con Yoke quindi l'unica cosa che mi viene in mente è che comunque poi gli avevano tolto un braccio lui comunque stava tutto arruggito così quindi poi ha perso lo slaggio ma sì però non è chiaro è stato un po' un po' ambiguo chi lo sa mi è venuto in mente così è una roba al volo vediamo vediamo oro jackson nera capiamo è quello che diceva prima Gabriele a me piacerebbe tanto ma non perché sia un'idea geniale è che almeno te la togli dalle palle tutti che si chiedono che fine ha fatto è quella lì l'hanno dipinta con le vele e a posto così c'è gente che mi ha detto ma quindi l'hanno rivestita d'ambizione la nave la vera nave del sogno sogno una sola presente hanno fatto come nei vari GTA non so se hai mai giocato a GTA è presente quando devi nasconderti dalla polizia certo che entri dentro nel pinpike ride di che colore la vuoi questa facciamo la nera e non se ne parli più assolutamente da oro jackson a nero jackson la cosa bella di GTA che l'unica macchina che non ricordavano era quella degli sbirri che era la macchina più veloce del gioco tra l'altro quindi più veloce delle macchine quelle da corsa certo si poteva fare Emmett sciglie sciglie scioglie Lucky per andare contro chi è ostile a Luffy perché afferma chiaramente che lo fa per salvarlo quindi tutti quelli che avevano intenzioni ostili nei confronti di Luffy ne hanno subito le conseguenze viceversa tutti gli altri compresi giganti non lo hanno percepito stile è interessante secondo me è una spiegazione valida questa l'avvocato sa il suo sa sempre fare il suo mestiere secondo me è una spiegazione mi convince ecco c'è un qualcosa di oscuro ancora perché chi è che ha deciso Emmett che imprime la sua volontà nel lanciare l'ambizione quindi Emmett che sceglie chi è verso Luffy quindi è quello che un po' manca se Emmett ha controllo diciamo oltre allo sciogliere il nodo anche su chi è avverso vabbè diciamo che ormai io ormai ho capito una cosa voglio fare anche questo discorso vai vai tenendo conto di quello che avevo detto anche all'inizio ovvero che secondo me Oda ma neanche ci pensa più a questo no no non si fa più domande c'è tutta la roba per esempio che per noi perché non funziona non funziona alla luce del 1123 con tutto quello che ha letto su Egghead cioè Oda manco ci ha pensato e Oda ha detto devo dare una spiegazione ma come devo spiegazione così tanto è un fumetto che teoricamente teoricamente è per i ragazzini e quindi non ci penseranno poi se ci pensano ma si si ma io ormai penso anch'io che Oda sia in questo mood cioè funziona bene non funziona sti cazzi tanto devo finire tanto tanto la gente mi segue lo stesso come diceva Benson capito che me frega di stare a perdere tempo con questo con quello vogliono sapere del One Piece non del suo io selvaggio in questo caso io mi immagino sempre il suo editor ventenne perché cioè per essercene accorti noi tutto il mondo se ne sarà anche accorto l'editor ventenne io mi immagino l'editor ventenne maestro io umilmente vorrei solo far notare che ha scritto una cosa che credo ritengo non possa funzionare tanto con quello che ha precedentemente annunciato muto devi stare muto no no non si arrabbia fa come il vice con il miga presidente arcangelo e gli fa scrivere io sono un po' stronzo nel cielo tolga un po' tolga quello un po' poveraccio è così è ormai ormai tutti gli editor di Oda in realtà si occupano di tutto tranne che del manga tanto il manga ormai si occupa solo Oda sì 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 tutti gli editor di Oda chi ormai si deve occupare dell'anime normale chi si deve occupare dell'evaction chi si deve occupare di quello nuovo di The One Piece e il manga non è il manga il magazine e tutte le altre cose che ci girano intorno intanto Oda ha lasciato la merced del suo cervello malato e fa porcherie sì no no Oda quando deve chiedere scusate stiamo scherzando Oda quando deve chiedere un parere va dalla giraffa la giraffa che c'era giraffa secondo te questa cosa senza giraffa a posto se non dici niente è un sì perfetto a posto è andata così no però ecco Eged è proprio forse il la saga dove un occhio critico è mancato ecco questa questa è forse la grande pecca la grande pecca sì bastava proprio poco per per far tornare tutto per far cioè io ormai la sua memoria è una saga che scorre molto bene cioè letta tutta insieme è una saga che scorre molto bene tranne proprio il climax in sé cioè il robottone e tutta la parte finale dal momento in cui arrivano anche cinque stronzi quando te lo leggi tutto insieme ti dà anche proprio quel momento di urgenza che loro hanno e anche di strapotere che loro hanno certo quando te leggi quel filotto di dieci capitoli dove loro ci sono te ti rendi conto che loro sono proprio invulnerabili invincibili immortali non gli puoi fare un cazzo e quindi dici boh ok adesso come come se la scappottano e poi secondo me però c'è questo climax che è un po' un po' un po' muscio come se fosse mi fosse mancato qualcosa ecco il colpo di grazia della saga grande peccato secondo me questo è un mio secondo me sì ma lo è perché sei un passo dalla fine quindi ti perdi come dicevo cioè la fine come dicevamo prima sono cose che rimangono problematiche nella saga in sé e quindi tu dici sì una bella saga con i suoi momenti alti e poi hai queste queste scivolate stupide veramente stupide da 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 mangaka di serie Z che non te le puoi permettere eh no no perché poi sono scemate cioè la roba della spia tutto quel coso lì sono scritte proprio male cioè vedi che voleva fare Conan sì sì ma mi hai rubato le parole di bocca e lui secondo me ha fatto l'intervista con ma sai che c'è adesso faccio anch'io ma non gli è riuscito molto bene aspettiamoci ci aspettavamo un colpo finale da Bonnie ma giustamente non aveva la forza per poter abbattere un Goro 6 ma va bene la parte di Bonnie è innestamente forse una delle costruite meglio quindi su quello da una bambina di 12 anni che finalmente trova il suo la sua fede e tutto il resto va benissimo va benissimo anzi sì sono sono no quella è una cosa che per esempio molti hanno odiato a me invece è sembrata proprio una cosa molto molto organica tutto quello che vuoi ti ha raccontato tutto quello ecco che Bonnie ti ha raccontato cioè finalmente Bonnie che diventa Chiara Ferragni pensa ti libera no sì però non ammanettata no non ammanettata per fortuna non deve neanche pagare la multa da un milione di Barry e quindi apposto così tra le tante ecco tra quelle cose brutte della saga la secondo me è stata proprio bella perché a fine ho detto ha raccontato proprio che bisogna essere come Nika per me stanno in quella direzione là un mondo dove tutti sono come Nika ma non che si trasformano sì 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 sono liberi come sì che sono liberi come Nika trovano la propria dimensione quindi riescono anche a trovare il proprio posto nel mondo cioè io l'ho letta così poi non lo so vediamo vediamo ha lasciato tutto a metà dice sempre Garpeppe significato della D nove del regno antico origine del frutto del diavolo devo continuare se vuole dottore vadi è una saga a metà basta cambiarci una vocale diventa un'altra cosa che però non dirò è un coito interruttus è un coito sì 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 questa ma più che più che interrotto è uscito male forse per il finale cioè l'amplesso è stato tutto sommato interessante divertente però poi il climax è insomma è un po' mosciato basta dato il mio alla prossima allusione sessuale quella era la zebra può potremmo fare la canzone nuova per il report no no basta per quest'anno ho già dato due canzoni è stato a posto finito puoi fare il singolo la tua la tua ma scherzando scherzando penso di sì ormai certamente tante canzoni quelle nel deep puoi fare una bella raccolta quelle nel deep puoi fare una bella ma proprio di canzoni tra virgolette vere sì 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 ce n'ho un botto ormai cioè c'ho c'è una vecchia canzone c'è laugh tale c'è laugh tale c'è meno male che doffi c'è c'è su spotify c'è c'è una secondo me qui sì non se la ricordano col foco foco mi basta poco e ho già sconfitto pastille quando quando sabo prendeva il foco foco e poi che altre canzoni c'erano ah c'era c'era pica pica con la voce dei cugini di campagna torreggio sulle strade di dresrosa il corpo mio di pietra è così e poi continuava la voce mia di pica è molto acuta incredibile che te lo ricordi ancora sì sì ma questo è il momento di pollia totale e quindi io potrei fare già proprio un cd cioè un cd proprio greatest greatest hits dentro ci sono 10-15 canzoni e tal con creation di natale natale capiamo potrebbe potrebbe essere un'idea giusto poi per farci arrivare direttamente la CIA sempre illegale non professionale cazzo sì potrebbero dirti qualcosa effettivamente su youtube vaffanculo sì 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 cosa migliore e cosa forse peggiore sì peggiore della saga di Eged per entrambi no migliore e migliore quindi due cose migliori no si è corretto allora vai tu vai tu cosa migliore la cosa migliore di di Eged è stata io non considero il brume 107 perché giocherai sporco cioè giocherai sporco quello lo voglio considerare un inciso un 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 intervallo un intervallo tecnico esatto esatto col morto no ecco la cosa migliore credo che sia stata la storia di orso come come patos come storia molti hanno detto cioè che dicevano che era rasciata e tutto il resto ma la marea di strozzate credo che sia la parte più più intensa di questa saga proprio anche perché orso è un personaggio che ti costruisce la volume 25 e gli dà un un epilogo che non è ancora poi un epilogo perché orso è ancora lì però il personaggio è chiuso in questo momento la cosa peggiore io cioè senza cadere nei cliché del coso lì dei dei serafini quell'altro ti dico sono stati i vecchi ma non loro in quanto loro ma loro in quanto non mi hanno fatto paura nel momento in cui ho visti perché il combattimento sembrava un film di Boldi e De Sica cioè loro Ruti e Scorreggia hanno combattuto quello forse è stata la parte peggiore considerando tutto che non vuol dire che è brutta però lasciando perdere la roba dei serafini dei diritti di comando e tutto il resto ecco loro li ho trovati molto deludenti perché non mi hanno fatto paura cioè dovevano essere i mostri venuti da dal palazzo degli dei e alla fine sono cinque deficienti uno peggio dell'altro cioè l'unico che forse fa paura è un po' è Biglino ma gli altri sono ridicoli il più ridicolo di tutti è il verme lui è il fessimo come ti dicevo prima nel leggere tutto insieme mi ha fatto un'impressione diversa rispetto poi alla lettura settimanale rispetto al fatto che poi abbiamo avuto pure un altro mese di pausa quindi la cosa sembra più dilatata ovvero che quello che dice è vero che poi è una cosa che avevamo detto già ovvero loro facevano molto più paura quando erano in chiaro scuro assolutamente non quando li vedi in chiaro ma il fatto che loro siano ridicoli quando combattono contro Luffy secondo me è puramente voluto perché comunque ormai ma questa è una mia interpretazione cioè Oda questa cosa qua sembra quasi per me che te la voglia proprio sottolineare ovvero che comunque lui cioè Luffy ha il potere più ridicolo del mondo e quindi ridicolizza il potere anche in quella maniera lì perché a leggerlo a rileggere ma questa è una cosa che avevo visto anche nella lettura settimanale è quando Luffy combatte con cinque astri di demenza la maniera in cui Yoda disegna i cinque astri di demenza soprattutto Workury cioè lui utilizza proprio quelle linee molto spesse che sono tipiche da gag manga per cui il fatto che c'è ecco uno come Workury che fa Ruta scureggia e fa ridere di suo va bene oppure tu c'hai no Jupiter che è questo vermonio con questi denti della menta dentro perfettissimi no e quindi sono grotteschi sono ridicoli e nell'essere ridicoli sono grotteschi ma in senso comico però il combattimento con Luffy diventa comico perché comico Luffy sembra davvero quella sorta di potere cioè proprio una risata vi seppellirà perché non si può andare oltre però lo capisco quello che dici perché uno chissà che cazzo si aspettava dopo aver visto quelle due tavole De Sabbo circondato da queste ombre sembrava veramente l'eclissi di Berserk per me la cosa forse più bella o meno che io ho apprezzato di più di tutto Eged è tutta la parte iniziale cioè di scoperta dell'isola del futuro che in realtà è l'isola sotto cento anni fa e nonostante ecco forse il punto deboli di tutta la saga mi viene da dire forse non sia neanche tutto quello che abbiamo raccontato stasera cioè che non torna al piano di Vegapunk ma mi verrebbe da dire l'aspettativa non l'aspettativa disattesa nei confronti di Vegapunk che non ci ha raccontato niente Vegapunk doveva essere quello che ci raccontava dei frutti del diavolo che ci raccontava del futuro del passato del presente che ci raccontava tutto però comunque nonostante ci abbia raccontato poco e nulla personalmente quei due tre capitoli dove lui ti racconta comunque del guerriero bianco e ti racconta la sua teoria dei frutti del diavolo la roba che i frutti del diavolo sono possibilità di altri futuri umani in altre dimensioni per cui questa roba qui va contro natura motivo per il quale il mare quindi da dove nasce la vita si oppone e quindi diventa il loro nemico il loro nemico naturale e Oda per farti capire questa roba lì è costretto a ridisegnare esattamente le stesse vignette dello scontro di Water 7 e Nis Lobby tra Luffo e Lucci e a me quella roba là mi manda i pazzi non ci posso fare niente mi piace troppo mi piace troppo quello che Vegapunk tra virgolette ti sottintende il potere creativo nulla è impossibile quando l'uomo insomma immagina immagina io quella roba lì la pretendevo non è che la volevo la pretendevo mi sarei sentito offeso se Oda non mi avesse fatto vedere quel pugno lì e quindi il fatto che Oda abbia fatto vedere non solo quel pugno lì ma in una di quelle che teoricamente rappresenta una delle più importanti spiegazioni del fumetto ad oggi anche se è una teoria di Vegapunk e io poi lì capitolo non ci posso fare niente ci sta ci sta capitolo proprio la farete una disamina di tutta la saga manga alla mano penso che questa è la settima volta che diciamo sì tutto 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 il manga o tutta la saga no tutta la saga tutto il Ged e per forza bisogna rileggerla prima io ormai la so memoria la ho feggio tre volte tocca ma sai perché tocca farla dicevo io perché proprio perché è una delle saghe più odiate dalla gente cosa succede con One Piece che poi escono fuori le leggende metropolitane sulle saghe odiate dalla gente quindi poi da parte nostra abbiamo secondo me il dovere morale proprio perché è una delle saghe peggiori forse o comunque più odiate abbiamo il dovere morale di saperla a memoria perché se poi uno dice una leggenda metropolitane poi ti guarda che questa roba sta inventando no è una storia falsa è una storia falsa e quindi non si può fare io ho qua eh tu mi devi far vedere una cosa che che non stavo cercandola su su twitter cioè io ho lo screenshot però se la trovavo su twitter è la più divertente però va bene lo stesso adesso adesso te la mostro sì te la mostro non se scrivo faccio un altro tentativo Simone devi ancora farci vedere l'incidente di Eged assolutamente eccola qua l'ho beccata l'ho beccata ce l'hai? sì sì l'ho beccata su x io non vedo allora ti faccio il preambolo ok il tema è la figura finale no? l'uomo in ombra la silhouette la silhouette sì questo personaggio su x ha avuto l'idea geniale per rivelare e svelare la vera identità di di questa di questo personaggio rivelato? adesso ti ti faccio vedere allora un due tre ecco qua partiamo da questa questa immagine allora oddio come on let's rock dice 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 coso immagina già dove vuole andare a parare of course you want to act quindi come on then no? ok vieni qui c'è il sole rock where are you rock e chiaramente è lui aspetta torni dietro non capisco questa immagine perché non lo so non lo so nel momento in cui tu hai cercato la prima la prima immagine come on let's rock avevo già capito che si andava a parare là cioè qui avevo già capito che si andava a parare ma perché hanno scusa torna vai avanti ok come on then vai avanti prima frase come on let's rock che poi non è vero perché Morgas non dice quello ultima ultima frase e vieni vai avanti is the man waiting rocks himself of course he want to act no? perché giustamente dice che qua c'è scritto he want to si ma per cosa per cosa c'entra l'immagine con questa non capisco questa questa ci vuole un genio non lo so tu a rock e we go rock where are you? rock e poi ha cerchiato il sole è perché sarà mica non 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 lo so e anche la gente disperata nei commenti no non lo so però mi aveva cioè sul momento l'ho vista e ho detto ma che cosa sto vedendo questa la salvo e la faccio vedere dall'angelo no non c'ha senso va bene si cioè boh no non e poi questo dice interessante chiaramente no non perfetto e no lo so ero perplesso volevo capire se tu capivi ma no no avevo capito subito che sia una no beh ma qual è se rock chi deve essere però era proprio la dinamica che ti portava a questo concepimento che mi disturbava quando io immagino sempre ma questo secondo me è un tipo di lavoro che poi richiederebbe anni per per essere completato ma io credo che andrebbe fatto quando sarà finito one piece si bisognerebbe fare uno studio serio vero su tutte le minchiate a partire dalle nostre che abbiamo detto in tutti questi anni a proposito di one piece e tutte le minchiate che ha partorito il web a proposito di una sorta di proprio volume completo di tutte le teorie partorite in questi 27 anni diventerebbe proprio la bibbia del ridere è dura perché c'è veramente 30 anni di merda è dura però il meglio del peggio o il peggio del peggio secondo me bisognerebbe racchiuderlo partendo dalle stronzate ho detto io i primis gli stronzate hanno detto la cucchiaiata figurate però secondo me andrebbe fatto capiamo se un giorno avremmo mai se ci sarà tempo e modo tempo voglia e modo per farlo ma quale è la peggiore non lo so no per me una delle peggiori rimane quella quella del kraken sì vabbè ma lì è proprio putrescenza fatta con fatta apposta secondo me ci sono robe ben peggiori c'è la roba di Jude erano convinto del petrolio della resina lì faceva proprio arrogante con tutti i termini i paragoni il gemello di shanks esiste ma quello c'è quello c'è non ti preoccupare il gemello c'è da prescindere dal gemello di shanks da un punto di vista meramente logico avrebbe senso se figureland senior perso shanks avesse fiato altri figli per mandare avanti la famiglia la famiglia certo e quindi un fratello o una sorella o più di un fratello o più di un fratello non esiste per forza certo capiamo vedremo bene a posto archiviati anche questi e adesso tutti a Delbaf tutti a Delbaf Beppe tutti a Delbaf tutti a Delbaf a mostrare i mica chiari che ti aspetti dal prossimo ti aspetti qualcosa o sei blind anzi blank come me ma secondo me cioè se se il 1124 è proprio il capitolo di chiusura come immagino io me ne aspetto un paio di capitoli in cibo per il mondo per vedere cioè noi abbiamo visto le reazioni della gente al messaggio di Vegapunk vorrei vedere le reazioni della gente al giornale di Morgans vorrei vedere la gente che parla ma adesso che cazzo facciamo ma è vero non è vero ci dobbiamo salvare non ci dobbiamo salvarci vorrei vedere il mondo come reagisce a questa roba gli effetti dell'incidente di Eged i fantomatici effetti dell'incidente di Eged e tutto sommato noi non abbiamo visto né uno cioè non abbiamo visto né Shanks né Barba Nera parlare di questa roba qui infatti infatti minimamente visti abbiamo visto più buggy che non loro due e e quindi mi aspetto anche una presa di posizione una parola una non Shanks che sabbinazza o ticce che ride e e poi mi aspetto insomma un capitolo con i cinque strunzi che parlano secondo me ci deve stare sì è importante farci vedere il punto del governo dopo questa roba qua perché loro ne scono vincitori ma ne sono moralmente sconfitti soprattutto dopo la mordata di Joy Boy che ha rimandato tutti a casa vediamo vediamo sono curioso anch'io sì intanto One Piece sta finendo mancano quanti capitoli mancano 86 76 76 76 76 76 guarda l'ultimo video guarda la copertina dell'ultimo video di Oara l'ultima cosa che vedremo questa sera watch out intanto vogliamo ricordare il viaggio l'anno prossimo cominciamo allora sì io non lo farei da settembre ma sì cominciamo naturalmente allora viaggio di novembre archiviato insomma quindi se volevate venire insomma sono cazzi vostri ma a marzo e no ad aprile perché primo dai primi di aprile primo aprile sì dal primo aprile e poi a maggio ritorniamo in Giappone e il viaggio di marzo di aprile scusate lo sapete il viaggio quello proprio super lungo totale tombale quello dove andiamo a Kumamoto le statue a vedere le statue dei dieci stronzi in giro per Kumamoto andiamo a Hiroshima quindi ci sarà la giornata del magone e poi naturalmente Kyoto Osaka Nara Tokyo quindi 15 giorni totali tombali potentissimi e quindi andremo tutti e tre c'è Gabriele c'è Francesco ci sono io e poi invece a maggio c'è secondo viaggio che è sempre il viaggio lungo tranne però la parte di Kumamoto e di Hiroshima quindi cominciate a mettere i soldini da parte però le prenotazioni sono già attive quindi se volete avere informazioni prezzi e c'è link eccetera scriveteci magari su Instagram in privato ci scrivete a noi direttamente oppure sulla nostra pagina Crossed Works ecco comunque la copertina è di Dragon e Kazuki abbracciati non era la facciamo vedere eccola qua Oda rivela il più grande segreto di Akainu gli ammiragli si rivolteranno contro il governo certo come sempre ha capito tutto è una vita che non vedo un video di che cazzo ha fatto è sempre huge per lui è sempre this is huge è tutto è tutto grosso probabilmente ha problemi di compensazione avrà il pisellino non lo so come quelli che compro la macchina grossa this is huge the most important moment of every one piece ecco questo per esempio è un video che si potrebbe copiare quale quale il momento più importante di ogni saga di ogni saga questo è interessante rubiamolo e lo facciamo tu il tuo io il mio e poi ce li paragoniamo no e poi facciamo una cosa tu reacti il mio o il tuo no no questo lo diciamo internos il mio va sul tuo canale il tuo va sul mio canale ah va bene e poi ce li reactiamo va bene facciamo un mischione strano una collab così la gente si trigga diciamo il video del re che schifo questo è un po' buda al contrario chiaramente giusto le cose della youtube del 2010 vabbè ma si però questo è interessante the most important moment of every one piece arc questa è infatti nessuno se l'è cacato infatti soltanto soltanto 60.000 views cioè rispetto agli altri video di Ohara questo che è l'unico probabilmente più interessante perché è quello dove parla solo del fumetto e la gente non se l'è cacata perché poi gli altri Oda reveals new mystery character competing for the one piece totalmente random 400.000 visualizzazioni mangia le persone questo non ho avuto questo lo volevo vedere ma poi l'ho solo premuto non ho avuto il coraggio il coraggio e vabbè chissà qual è la più vista popolare vediamo 5 milioni di visualizzazioni cosa sarebbe accaduto se Rufy fosse un marine quella è la più più vista incredibilmente beauty the best one piece one piece you'll ever watch I guess incredibile ovviamente al al settimo posto la roba su Jujutsu Kaisen su Gojo per forza bene beh ogni tanto è bene andare a vedere queste cose per farci anche un po' il sangue amaro ma noi vi diamo appuntamento nei prossimi giorni con le solite stronzate un bacio un abbraccio alla prossima viva one piece divertitevi sempre ciao